Che cos'è la canalizzazione vibrazionale angelica? La canalizzazione vibrazionale angelica è un'esperienza veramente particolare dove tu ti permetti di connetterti con te stesso e con gli esseri di luce ma ha un livello vibratorio incredibile connesso proprio alla vibrazione più elevata che possa esistere La canalizzazione vibrazionale angelica è qualcosa che ti permette di andare oltre quelli che sono i confini che hai sempre percepito del tuo essere è qualcosa che ti permette di lasciare andare tutte quelle che sono le tue paure di vivere l'essere magico che sei e specie se sei una persona di amante sappiamo di che cosa stiamo parlando, vero? E ti auguro veramente di poter fare questa esperienza di scoprire chi sei e di vivere veramente la tua vita a pieno, totalmente e di sperimentare il meraviglioso essere che sei e che a volte reprimi Ti auguro una bellissima giornata e ti saluto, a presto, ciao!